Inizio col chiedervi come è stato ricimentarvi di nuovo in questa storia e qual è stata la differenza più grande, dato che si parla adesso di una serie, rispetto ai film precedenti? Beh, innanzitutto è stato sia nuovo che vecchio come esperienza. Vecchia nel senso riconosciuta perché lo stesso cast, noi insomma abbiamo accettato questa grande proposta di Sky pur che rimanessimo insieme noi e quindi c'è, insomma i miei grandi amici ci hanno seguito. Nuova perché ho condiviso questa esperienza con Alessio Maria Federici avendo un occhio diverso al modo di girare la serie e devo dire che mi ha fatto anche conoscere una modalità di riprese che prima non avevo mai perlustrato, abbiamo girato col Trinity che è un tipo di macchina da presa che non avevo mai usato che ci ha permesso di fare tante cose molto molto interessanti. È stato anche un modo secondo me doveroso di lavorare con nuovi attori perché sono tutti i ragazzi che fanno le parti dei giovani che sono alcuni di loro alla prima esperienza, sono stati bravissimi. Insomma è un'esperienza che mi porterò nel cuore personalmente. Adesso Federici meno? No, non è vero, anch'io. Io tieni senti che essendo molto molto più giovane di loro per me ho lavorato con dei miti che da bambino andavo a vedere al cinema. Ah, ma intendi. No, però per me devo dirti che lavorare con questi grandi nomi Giallini, Morelli, Tognazzi, Max e soprattutto potermi cimentare nell'idea di dosarli insieme a tutto questo mondo di giovani attori che invece scalpitano, cercano, sono lì incuriositi rispetto a quella che è l'esperienza dei grandi attori. È stato un convivere con dinamiche diverse che mi ha fatto crescere molto. Poi condividere con Max una storia è stata ancora più divertente perché anche dividerci il set era comunque divertente, sembrava un po' di andare a far l'assa del fantacalcio certe mattine. Ma è vero perché certe volte girava lui la mattina e io il pomeriggio. E magari lui aveva perso il giorno prima contro di me o viceversa. Non ho mai vinto contro di lui. Dieci anni di fantacalcio, mai vinto. Giuro, mai. Notate che ha detto dieci anni di fantacalcio, ha fatto questo gesto. Non ho mai vinto. Non riesco a fermare i treni, io ancora manco a contare. Sentite, la storia è immersa nell'atmosfera degli anni 70. Qual è stata la sfida più grande anche magari, non lo so, nel lavoro di ricostruzione del periodo? Fa levare macchine a Roma. Togli le macchine parcheggiate a Smart. L'altra che c'è adesso ha 500 nuova e sti SUV di merda. Prima noi vedevamo la strada, le macchine erano alte così. Adesso abbiamo scoperto che ci stanno solo SUV, Smart e antenne paraboliche. No, no, insomma, è stata una grande sfida. Lavoravamo con un network importante come Sky e quindi per fortuna abbiamo avuto i mezzi per farlo. Comunque è stato un grande lavoro scenografico, di costumi. Io penso che il lavoro che ha fatto Alberto Moretti, il nostro costumista sullo studio, è stato importantissimo. di trucco, di parrucco. Insomma, dovevamo rendere credibili gli anni 70 e anche con l'apporto della fotografia di Marco Pieroni abbiamo, credo, raggiunto il nostro obiettivo. È stato molto, molto interessante. Secondo voi perché il pubblico apprezza sempre tanto i film che parlano di epoche passate? Penso anche a capolavori come Ritorno al futuro, c'è un cult. Che cosa c'è che attira così tanto il pubblico? Beh, guarda, io posso risponderti perché io ho scritto Notte prima degli esami in quell'epoca e c'è stata una doppia componente che ha portato così tanto pubblico al cinema. Allora, uno erano i giovani che vedevano storie di giovani di un'altra epoca per vedere comparativamente come erano i ragazzi una volta. Quindi quando ad esempio Notte degli esami uscì nel 2006 e raccontava di una storia ambientata nell'89, c'era questa curiosità di vedere come erano fatti i ragazzi. E dall'altra parte c'era invece l'effetto revival che ha sulle persone che hanno realmente vissuto quell'epoca. Quindi sono due pubblici diversi. Lo stesso succede su questa nostra serie perché ci saranno molti dei nostri telespettatori che avranno vissuto quegli anni, che si ricorderanno quegli anni. E altri che magari vorranno vedere cosa faceva un ragazzo di 18-20 anni nel 1970. Quindi credo che questa sia una componente importante. Sì, sì, assolutamente. Guarda, io credo che questa passione verso il passato, una volta quando si entrava in confidenza con qualcuno dopo che ti aveva invitato a pranzo, aveva mangiato le pastarelle che l'ospite portava, tiravano fuori quella cosa orribile e tremenda che era l'album delle foto. E c'era un po' questa idea di volersi raccontare attraverso il come eravamo. Quindi secondo me nel vedere roba che ricrea gli anni passati è anche un po' perché viene quella malinconia di pensare e io com'ero? E io dove stavo? Ah sì, anche io facevo questo. No, ma dai, quella canzone la sentivo anch'io. Un pochino quello. L'ultima domanda, velocissima. Se poteste scegliere un'epoca del passato in cui vivere, quale sarebbe? Vado io? Beh, il Medioevo da ricco. Nonostante le malattie, la peste. Da ricco, da ricco, come direbbe Giallini, da ricco. Io invece vorrei andare nella pre-storia per vedere le prime artiste della storia, che erano le donne che hanno fatto le pitture rupestri mentre gli uomini andavano a cacciare. Perché i primi artisti, diciamo, su questo pianeta sono state le donne. Sarebbe interessante vedere queste donne super pelose che pitturano nelle caverne. Grazie. Prego. Grazie.